Come presentarsi? Ciao. Buongiorno. Buon pomeriggio. Buonasera. Come ti chiami? Tu. Come si chiama? Lei? Scusa, qual è il tuo nome? Scusi, qual è il suo nome? Mi chiamo Anita. Piacere? Come stai? Come va? Bene. Grazie. Come sta? Molto bene. Che succede? Tutto a posto. Al solito. Un po' stanco. Sono malato. Così, così. Non male. Male. Tutto bene. Bene. Abbastanza bene. E lei? E tu? Anche io sto bene. Grazie. A dopo. Arrivederci. Adio. Buonanotte. 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 Anche. Grazie. Prego. Grazie. Salve, signora Senerchia. Oh, buonasera, signor Mastroianni. Buongiorno, signora Loren. Buona giornata, signor Bianchi. Arrivederci, signor Ferrari. Addio. Buonasera, signora Alfonsi. Buonasera, signora Ricci. Ciao. Ciao, Bruna. Buonanotte, Isela. Buonanotte, luna. Buongiorno. Mi chiamo Bruna Ricci. Mi chiamo Marcello Russo. Buonasera. Mi chiamo Francisco Ricci. Rita Esposito. Piacere. Buonasera. Isela Ricci. Irene Esposito. Piacere. Come va? Bene, grazie. E tu? Molto bene. Bene, grazie. E tu come stai? Anche bene. Grazie. Buonasera, signora Riva. Buonasera, signora Riva. Le presento il mio amico. Sono Giovanna. Molto lieta. Piacere, David. Scusi, è lei la dottoressa Rossi. Si sono io? E lei come si chiama? Sono Maria Ricci. Piacere. Giulia, ti presento il mio amico David. Piacere di conoscerti. Piacere mio. Maria, ecco il mio nuovo vicino. Piacere, io sono Maria. Tu come ti chiami? Mi chiamo David. Piacere.